Bentornati cari iscritti alla SJ The Space Destroyer Allora, nuovo allenamento, oggi allenamento Abbiamo un active class, funzionale Ma è abbastanza cardio questo Attenzione, è una struttura di 6 esercizi Da 50 secondi in 1 e 20 di recupero Lo ripeteremo per 4 volte Ma attenzione, ora un bel riscaldamento Faremo 3 minuti di riscaldamento libero E 3 minuti di warm up nel fare tutte e 6 gli esercizi a ripetizione Così poi li abbiamo già venuti Ok, marcia destra Ancora Dai che ci riscaldiamo un pochettino Occhio, portiamo tutti le braccia Ancora Cerca di spingere verso l'alto Chiudi 8 6 4 Ventione Giro le spalle A funzione Ancora Non fermare le gambe E ancora 8 Sono 6 4 3 2 Assume le ginocchia Assume le ginocchia E sali 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 Allora non è necessario andare a tempo Mi raccomando Sali 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 Siamo in una tonificazione Quindi fate quello naturalmente che riuscite Riuscite ad andare un po' più lenti Andrete un po' più lenti E niente Assume le ginocchia Forza gli addominali 5 6 4 3 2 Passo 2 2 E 2 Ancora 2 2 Ancora E giudibili Su E giudibili Su E giudibili Su Ok Datti una piccola forza sul posto Piccola La proprio piccolina Piccolina Stiamo sempre solo scaldando Ancora Oppure me 4 3 2 Corsa aperta Attena un pochettino Su Su Mai fermare le braccia Si muovono sempre Ancora 8 6 4 3 2 Continuo Chiudo le gambe Vai Inizia ad abbassare un pochettino il busto Tiena sempre per la ditta Attenzione Apri E chiudi Ovvio che giochiamo un po' eh Apri Chiudi Di nuovo apri E chiudi Ancora apri Vai Chiudi Chiudi Ed è lui Com'apri E chiudi Ok Sogna il ginocchio Su 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 Fammelo Doppio Due 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 Opre le braccia Apri Apri Ancora Guarda Come se da l'alto Prendersi un'idea di lato E li dobbiamo Pugare Ancora Un'altra Ancora Un po' di Su Com'l'uomo Un po' di Tre Abri la gamba, 8, 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2, perfetto, piccoli squat, piccoli, giù, giù, viene la gamba, spino a levo, spino a levo, spino a levo, vai, 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 vai braccia, ok, giù, e strada, giù, bene, bene, appianca la destra, va, ancora, ultimi due, bambino uno, stai giù, bene qua, tira le braccia, esatto, braccia a fianco di la destra, otto, sette, sei, cinque, cinque, tre, due, stai giù, bene, poi direi che possiamo anche iniziare e introdurre gli esercizi che dobbiamo andare a fare, ci siamo, allora, andiamo in la gamba, cos'è, uno spuntamento alla terra, lo sposto, ma l'altra gamba non tocca il pavimento, qui siamo, marcia, otto, pronti che lo facciamo, quattro, tre, due, vai che andiamo, ok, giù, gampio, ora la gamba che fa perno, va giù, 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 dai spazio, parlo ampio, vai, giù, 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 quattro, tre, due, e stop, ok, prima del cicchio, secondo del cicchio, attenzione, lo skiff, skiff, sto su, su, vai, guarda il ginocchio, spazio, devi non salire, addominale, molto forte, vai, se vuoi ti metti anche le mani qua, che devi andare a toccare, vai ancora, e stop, secondo esercizio, come sentite già il cuore, è molto alto, eh, pronti allo squat, guardate bene le varietà, per tutti la sigla di te, quindi, squat, 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 ultimo, squat, ok, otto terzo esercizio, passiamo qua, verti, quindi, appoggi le mani, diametro, tocco, rispando, rispondo, e facciamo cinque, andiamo, vai, su, due, su, tre, su, guarda, su, cinque, e stop, com'è andata, attenzione, attenzione, abbiamo i precisi da fare, pensiamo a quinto esercizio, momento, guarda, attenzione, attenzione, sentiamo tutti lastra, attenzione, attenzione, tra i volЯ, chi si trova dando questa un pezzi, da oggi per il più del rinno, avanti, ischiascuna, pitamole, si trova dando una volta, esercizio, 8 9 5 6 7 8 8 8 9 10 11 14 14 15 15 19 16 19 20 La, la, canti, no, canti, no, canti, forse l'abdominale, leggero, su, mano dentro, dopo il piede a sinistro, e ritorno, la, mano a sinistro, il piede a dentro, e ritorno, vai, e passate 5, 1, 2, 3, 4, canti, 2, 5, vai l'ultimo, E, il saltello si resta, ok, siamo pronti a partire, ci siamo voi? Mettetevi subito l'acqua vicino, sono 6 minuti di lavoro, in realtà sono 7, prese le pause, primo giro 7 minuti, siamo pronti? Vedete un attimino, vi lascio 30 secondi per partire, e ci prepariamo con il side jump, ricordati che dobbiamo fare una sorta di affondo, ma il piede dietro, non tocca, non tocca, intro giù, pronti? 12 secondi e partiamo, camminate la marcia, ognuno va a suo tempo, sono 50 secondi da sentire, pronti? 3, 2, 1, stiamo, vai, voi andate anche con più calma, ma sperimentali farlo bene, giù, 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 E incrociare bene la gamba dietro, incrocia, incrocia, così si viene lavorato in giù e desterno, vai, giù, 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 vai, è molto caldo questo piede dietro, vai, 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 dai, E entra l'aria fuori in aria, vai, manca, 10 secondi, giù, 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 senza toccare il pavimento la gamba dietro, va, e stop, 20 secondi di recupero, ragazzi adesso abbiamo gli skip, Vai, 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 vai Senti di portare il ginocchio al minore del sangue, se vuoi vai più piano. Non è un problema, ammortizza sempre il tuo ginocchio. Dai, siamo a metà, siamo a metà, continui, vai, su, su. Dai, forse gli addominali, forse, forse, forse. Ancora, ancora, manca dieci secondi. Dai, 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 dai. Su, 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 bene, su, bene. Uno, e stop. Qua prendi fiato, eh. Qua ti serve prendere fiato. Tensiamo, prepariamo lo squat. Qua possiamo recuperare gambe di maricate, leggermente aperte le punte, prepara le braccia, eh. Spalliare, queste va. Quanto, no? Due. Tre. Vai, forse, uno. Cinque. E vai. Su, su bene le braccia. Vai. Mi raccomando, se devi andare più lenta, un po' più lento, paolo. Vai. Su, 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 su. Vai, ancora. Scendi bene. Scendi bene. Scendi bene. Vai. Vai, forse, siamo a metà, eh. Nel primo circuito. Vai. Vai, ancora. Giù. 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 So. Oh, abbiamo un cuore recuperato. Abbiamo un burpees adesso da fare. Andateci piano, perché il burpees è molto barbio. Ok? Pronti? Oh. Andiamo bene. Giù. So. Funca. So. 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 You make me make me. Like. I. Vai. 15 secondi. Vai. Ancora. Su. Su. E' l'ultimo. Su. E stop. Recupera. Due esercizi ancora. Andiamo ai precipiti. E' l'ultimo. Prendi piatto. Prendi piatto. Seduti. Vedi. Dalla seduta. Anche qua con calma, eh. Da calma, dai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Vai. Mi raccomando. Sono le braccia che lavorano, eh. Il mio corpo è fermo. I taloni non mi spingono. Vai. 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 Su. 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 E ti devi fermare. Ricordare il palco. Vai. 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 Ancora. Giù. Oh. Ok. Abbiamo l'ultimo. Plank piramide. Touch. Con quel piede opposto. Ok. Con calma. Poi abbiamo finito il primo giro. Ci possiamo ricordare. Su un po' di plank. Oh. Basta l'addominale, eh. Mi raccomando. Per il plank andiamo. Uno. Due. Tre. Basta gli addominali. Quattro. Cinque. Sei. Vai. Un po' molto armata. Qua sopra. E togli. Quindi spalle. Abbiamo gli addominali che lavorano. Andiamo anche l'esistenza. Il gluteo. Vai. Vai. E' ancora gente. E' ancora gente. E' ancora gente. Siamo in quello dello yoga. E' un stretch. Vai. Ok. Primo andato. Un minuto di pausa adesso. Ricavatevi un minuto di pausa. Cosa dovete fare in questo minuto di pausa? Dovete bere. Tanto. Ok. Anche durante la giornata. Cercate di bere tantissimo. Prendete forte il respiro. Ora. Bisogna rifarlo altre tre volte. Quindi. Io vi saluto. Così il minuto non è troppo pesante da caricare. Voi fermate. Col vittino sul cursore. Tornate indietro. E ripartite subito dopo il riscaldamento con questi sei esercizi. Il minuto per altre tre volte. Io vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo allenamento.